L'Unipol 6 Bologna è campione d'Italia. In gara 7 dell'Italian Baseball Series la fortitudo batte il Rimini 4 a 0 dietro uno strepitoso Rivero che arriva alla fine, lancia la gara completa, ottiene 12 strikeout e concede le briciole all'attacco del Rimini. Anzi si può veramente dire che Rivero sbagli un solo lancio. Succede al sesto inning con due out, in battuta c'è Salazar che colpisce bene ma la sua lunga volata trova una grande reazione di Oltien che ottiene l'out al volo. A quel punto la gara poteva essere riaperta, conduceva Bologna che si era portato in vantaggio al primo. Infante aveva iniziato la partita con un doppio all'esterno destro contro il partente riminese Corradini, poi sul bant di Fuzzi era arrivato in terza e aveva segnato sul singolo a destra di Liverziani. Corradini, non certo nella condizione di sabato scorso, accusava anzi qualche problema fisico e scendeva dopo aver concesso il secondo punto al terzo con due out, un chilometrico fuoricampo di Guillermo Rodriguez che spinge così a casa il suo decimo punto della serie e mette i presupposti per il premio finale di miglior giocatore MVP. Sarà ancora Rodriguez al settimo contro Escalona a spingere a casa il terzo punto segnato da Fuzzi in base per Valido all'ottavo inning contro Enorbel Marquez con un out, Grimaudo batte un lungo triplo a destra e segna su una giocata di squeeze play eseguita magistralmente da Sabatani. Grazie! 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 Grazie a tutti.